Benvenuti a tutti voi qua sul palcoscenico dove stiamo preparando la FIU di Riuscimanti Tonezzetti, un'opera con il sorriso sulle labbra, un'opera di cui abbiamo assolutamente bisogno in questo momento verso il Natale per stare bene, per reagire insomma le difficoltà della vita di questo momento. Stiamo creando veramente un'opera che è un omaggio alla grande opera comique francese di Tonezzetti, uno spettacolo con un patchwork, un mash up di epoche storiche differenti, la voglia di portarvi in una storia appunto che vi faccia sorridere, che vi faccia anche riflettere su dei sentimenti, su grandi passioni umane di cui era grande maestro Tonezzetti. A presto a teatro!